La Walt Disney Company è attualmente al centro di una contesa per i posti nel suo consiglio di amministrazione, con Nelson Peltz di Triumph Fund Management che sembra essere in lizza per due o tre seggi. Questo è solo l'ultimo sviluppo in una serie di conflitti che hanno scosso la stabilità all'interno dell'azienda. Peltz, che l'anno scorso ha cercato un posto nel consiglio di amministrazione prima di fare un passo indietro a seguito degli annunci di tagli aziendali da parte del CEO Bob Iger, sembra ora riprendere la sua lotta per procura. La recente nomina di nuovi membri al consiglio di amministrazione, come James Gorman di Morgan Stanley e l'ex Jeremy Darroch di Sky TV, potrebbe essere interpretata come un tentativo di ostacolare gli sforzi di Peltz e di altri investitori per ottenere seggi. La situazione si è ulteriormente complicata con l'uscita di Ike Perlmutter, associato di lunga data di Peltz e sostenitore nella precedente battaglia per procura con la Disney. La Disney ha ammesso di aver licenziato Perlmutter, ma sostiene che la sua lotta sia motivata da un'agenda personale contro Iger. In mezzo a questo scenario, emergono domande sulla Marvel, con alcune critiche sulla sua attuale direzione. Alcuni punti di vista suggeriscono che la recente situazione della Marvel possa giustificare le preoccupazioni sollevate da Peltz in passato. Il coinvolgimento di Morgan Stanley, società incaricata da Comcast per valutare Hulu, e la nomina del suo CEO nel Consiglio di Amministrazione di Disney, potrebbero sollevare questioni su un possibile conflitto di interessi. La disputa ha già avuto un impatto sul valore delle azioni della Disney, che è diminuito a circa 92 dollari per azione dopo gli annunci di nuovi membri del Consiglio e i problemi interni. La prossima mossa sembra essere quella di Peltz e Traian, che intendono presentare il proprio caso direttamente agli azionisti. La situazione resta fluida e in continua evoluzione, con potenziali implicazioni significative per il futuro dell'azienda. Resta da vedere come questa contesa per i posti nel Consiglio di Amministrazione influenzerà la strategia e la direzione della Disney, una delle icone dell'industria dell'intrattenimento.